L'alta velocità decolla, a Vicenza la tratta ovest è blindata, ci sono già i finanziamenti, la tratta est invece sta nascendo ora. A Palazzo Trissino, nel summit tra i tecnici della rete ferroviaria italiana e consiglieri comunali dei gruppi di maggioranza, viene fatto il punto della situazione. L'obiettivo è quello di un intervento meno impattante possibile sulla città. C'è stato già rispetto allo studio di prefettibilità una diminuzione degli edifici residenziali e commerciali che vengono abbattuti, si passa da 42 a 36, le spropriazioni sarebbero pagate a livello di valore commerciale, questo è un dato importante, e poi una serie di opere complementari in termini di viabilità e non solo, anche di infrastrutture, quindi piste ciclabili per alcuni chilometri, strade nuove, il collegamento con Viale Serenissima passando per via del Martire delle Foibe, una nuova struttura sportiva in sostituzione di quella della Stanga che diventa fermata del trasporto pubblico locale del Filobus e poi anche un'area di parcheggio di interscambio nella zona del Foro Boario, quindi alle porte della città. Sul tratto ovest invece i tecnici di RFI hanno chiarito una volta per tutte che, ottenuto anche il via libera della Corte dei Conti, non si può più mettere in discussione il progetto, a meno che non si ricominci da capo tutto l'iter, tornando indietro di vent'anni, quindi niente tunnel. Se io fossi stato sindaco negli anni scorsi avrei sostenuto sicuramente il percorso nel tunnel. In questo momento, nonostante i tentativi di un paio d'anni fa, in questo momento vorrebbe dire tornare indietro di vent'anni e quindi credo che sia giusto procedere nella salvaguardia di questa progettazione alla luce del fatto anche che alle porte di Vicenza, nel tratto Altavilla fino a Verona, già cominciano i cantieri per l'opera appunto della TAV. Tornando al tratto ovest adesso, inizia un percorso di approfondimento, di confronto con i cittadini e con le categorie economiche. Insomma, bisogna avere il tempo di ragionare per non commettere errori. Si sta valutando di attingere al recovery fund, questo chiaramente nei limiti temporali concessi e quindi bisognerà capire se riusciremo nei tempi richiesti da recovery a intervenire con una progettazione almeno preliminare. Certo è che pensare a un recovery che ci detta dei tempi stretti ci mette qualche elemento di perplessità, cioè ho capito che bisogna correre ma bisogna anche avere il tempo di confrontarsi. Grazie